Qualche mese fa decisi di iscrivermi a McFit con la mia compagnia e per sponare tutti a dare il meglio invitai anche una bellissima personal trainer. Ecco com'è andata. Data la nostra incompetenza in materia e dato che se fossimo venuti in palestra da soli avremmo finito l'attività non appena oltrepassato il tornello di entrata. Oggi con noi c'è Margherita. Ok, perfetto. Perché hai la pancia? No, 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 siamo un po' distratti Margherita. Che oltre ad essere una gran gnocca ci farà da personal trainer. Questa è la mia compagnia e noi siamo nelle sue mani. Manuel, costruisce piscine. Nel tempo libero PS4 e cibo spazzatura. Crede di saper giocare a calcio e il suo numero è il 33 e non sono gli anni. Ciccio, tecnico caldaista soprannominato nascondino ama fare le cose di nascosto. Il suo hobby è ridere e a calcetto gioca in porta. Oscar, venditore di auto H24 7 su 7. Nel tempo libero si lamenta e gli piacciono i cani di grossa taglia. Ale, assicuratore che non ha mai smesso di sognare la serie A e ad un passo da successo si trova in seconda categoria. Mauro, come mestiere fa il riempitore di macchinette automatiche? Si narra che sia lui stesso a svuotarle. Adesso facciamo un ruolo. Ciccio. Mauro. Te l'ha detto dopo. No, la prima volta. No, no. Possiamo iniziare. Questo è il primo allenamento della mia compagnia. Istruttrice Margherita, puoi venire a delencare cosa andremo a fare oggi in questa palestra. Potremmo iniziare con dei burpees o dei jump squats. Nessuno di noi sa cosa sono né i burpees né gli squat squat. Però adesso inizieremo con dell'attività fisica. Ci stiamo scaldando con i jump squat. Adesso ci farà vedere un burpees. Ma bisogna farlo con l'accio emostatico qua? È preventivato che scorreggiamo un pochettino. Venite un po' più qua, che così siamo sotto alla luce. Putt'anfia. Oh diaz. No raga, sono finito io. Otto. Nove e dieci. Il Mac ce lo siamo guadagnati. Ma se lavora il quadricipite non è l'esercizio giusto, è vero? Io vado al ginocchio. Ma che non sono delle mutande. Sì, iniziamo coi pali dai. Iniziamo coi pali. Che palo. Dai, oh, ma se no fa male. Oh raga, tutti pronti in posizione. Facciamo sette secondi tutti insieme. Flexibility. Molto propositivo comunque ragazza. Ma sta tirando fra la mano adesso. No, no, no. No. Stai a una situazione. Pasqua. Ma non ci sono. Ciccio. Ma di volte che mi si dava. Ciccio. Calma. Ciccio. Siamo in palestra. Come si chiama questo esercizio? Face pool. Face pool. Face pool. Adesso faremo un face school. Strizzol deltoide. Ma non è poco 375. A me sembra tantissimo. Mi sento ancora più grosso. Fa malissimo. Insomma, mi si spacca un ginocchio. Cosa stiamo facendo adesso? Questo si chiama pulley o rematore, ma in genere è pulley. Adesso faremo il pulley e serve per il dorso. Sono molto confuso da qua. Qua devi immaginarti che ti stanno scippando. Inizia a correre. È veloce. Prova tenere la gamba dura. Tenti rigido. Tra quanto ci facciamo male, secondo voi? Alla indietro è stupendo, cazzo. Io adesso vado a correre. Vai, c'è una caretta. Vai, Denis, vieni a fare una caretta. Adesso abbiamo deciso di correre veramente? Ma quanto sei a dieci? Pazzo. Margherita? Questo qua cosa sarebbe? A me sembra tanto duro. Ma fallo solo col palo. Ti pare che siano pochi? Com'è che si fa? Ma no, non lo so a mettere pesi. È impossibile. No, no, è troppo pesante. Ho le braccette da pollo, raga. Non me la sento. È durissima. Che quanti dovrei farne? Una serie da otto. Mi esce la scapola. Ho lo sterno Cleido Mastideo. Quanto sono, Mauro? Arriviamo. Adesso che siamo volti quasi al termine, faremo lo stretching. E dall'altra parte, Mauro. Mauro, dall'altra parte. Mauro, no, Mauro. Sì, valla. Ho due metri di gambe e 30 centimetri di corpo. È ovvio che non le tocco. Praticamente si muove la schiena. Sì, mi piace. E poi... C'è non è servito un stack quello che abbiamo fatto fin adesso, praticamente. Ma sono solo con la crema. Grazie. Un po' madre. La crema. Pavoneggiate, 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 pavoneggiate. Pavoneggiate.